I dati sono confortanti ma la guardia non va abbassata, ne è consapevole il Presidente della Regione Liguria Giovanni Totti che nell'annunciare un indice di contagio al di sotto di quota 1 sostiene quanto condiviso col Ministro della Salute Speranza circa l'opportunità di mantenere le restrizioni previste dalla zona arancione per la nostra Regione. Io credo che ancora alcuni giorni fino al rinnovo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sarà il 3 di dicembre, alcuni giorni in zona arancione con quelle misure di contenimento che ci stanno dando ottimi risultati sia sul fronte ospedaliero sia sul fronte dei contagi, sia una scelta opportuna. Nella conferenza delle Regioni tuttavia i governatori gettano il cuore oltre l'ostacolo auspicando la possibilità di ripresa nel periodo natalizio delle attività economiche compresa la riapertura delle stazioni sciistiche. Sarebbe francamente drammatico pensare ad un Natale senza la riapertura di parte del commercio certamente delle nostre stazioni sciistiche, dei nostri alberghi, dei nostri ristoranti nelle città per consentire un Natale sereno alle famiglie ma sereno anche a chi di queste attività ovviamente vive. Non siamo sconsiderati né imprudenti, precisa Toti, le Regioni e i Sindaci si sono sempre assunti le responsabilità nei confronti delle strutture ospedaliere e della salute dei cittadini ma anche verso coloro che con quel pezzo di economia oggi chiusa danno da mangiare ad una famiglia. Le Regioni come segnale anche di speranza diciamo così hanno approvato le linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita sulla neve e speriamo che poi nel confronto ovviamente col governo dei prossimi giorni quelle linee guida possano tornare utili.